Elilab è una start-up che si occupa di servizi aerei attraverso l'utilizzo dei droni. Siamo una start-up molto giovane, è nata l'anno scorso, abbiamo sede legale in Sicilia, però stiamo distribuendo le nostre sede operative un po' in tutto il nord Italia. Abbiamo pure dei partner che coprono il territorio geografico a 360 gradi. Abbiamo iniziato come dicevo l'anno scorso, stiamo facendo conoscere perché abbiamo vinto un pochino di competizione di start-up, abbiamo vinto il primo mazzotto, per ultimo appunto Alimenta2Talent che ci ha permesso di venire oggi qua in Seed&Chips a presentare il nostro progetto Agritron. Quali servizi offrite agli agricoltori? Noi offriamo servizi per l'agricoltura di precisione, abbiamo della strumentazione montata sul drone che permette di mappare il territorio grazie all'elaborazione di immagini termografiche e multispettrali di dare subito l'oreografia e l'indice di vigore del territorio sottostante. Quindi è possibile capire lo stato di benessere della pianta e raccogliere dati che poi possono essere elaborati da tecnici e agronomi. Inoltre abbiamo voluto ancora di più innovare il sistema per l'agricoltura di precisione creando questo sistema qua che è un gateway, un router che permette di interfacciare il drone direttamente con internet e quindi tutti i dati raccolti dal drone possono essere immediatamente inviati su cloud, possono essere elaborati nello stesso istante in cui il drone sta volando, azzerando quindi tutti i tempi morti e possono essere interfacciati con tutte le altre tipologie di dati provenienti da sistemi di terra già dotati di intelligenza per agricoltura di precisione. Quindi praticamente il trattore piuttosto che l'irrigatore a rate o variabile può all'istante ricevere istruzioni dal drone che vede dall'alto le coltivazioni e comportarsi di conseguenza.